80 milioni di euro di investimento per creare un polo logistico che ancora prima di vedere la luce è già stato indicato da alcuni come un modello a cui guardare per uno sviluppo sostenibile di un territorio come quello pavese. Al centro di una proliferazione senza precedenti, spesso disordinata e molto discussa di questo settore, il polo nasce infatti sulle cenere di un'area dismessa di oltre 200.000 metri quadrati, un ex fornace, e non viene consumato quindi suolo agricolo, come accaduto nella maggior parte dei casi finora. Si trova ridosso delle due autostrade A21 e A7 e lontano dai centri abitati. Il resto, secondo il sindaco di Caseggerola, Leonardo Tartara, conferma che la strada tracciata è quella corretta dalle caratteristiche energetiche innovative degli edifici. Al verde, giovedì è stato ammesso a dimora, simbolicamente il primo di una serie di alberi e l'indotto occupazionale che deriverà dall'avvio delle attività. Si stima che qui lavoreranno alcune centinaia di persone, una volta che l'impianto sarà regime. Un intervento importante che va a riqualificare un'area dismessa e lo fa con una prospettiva ISG, quindi con rispetto per l'ambiente, per le persone e per il territorio. Oggi siamo qua per una cerimonia che è la posa del primo albero, uno dei tanti alberi che saranno posati insieme alla costruzione di questo nuovo insediamento logistico. Ci aspettiamo occupazione diretta ma anche un buon impulso all'indotto. La cosa principale è portare lavoro sul territorio, portare le persone ad essere presenti col lavoro sul territorio. Abbiamo due fabbricati, uno da 90.000 metri quadrati e l'altro da 20.000 che verrà eseguito poi in un secondo momento. Abbiamo una massima flessibilità di comparti all'interno, possiamo andare a insediare anche dalle 4 fino alle 8 aziende di light industry e di logistica e sperando di andare a creare anche grandi numeri anche in termini di posti di lavoro che è un po' la speranza di tutti perché anche questo chiaramente fa parte della sostenibilità. Abbiamo avuto la possibilità di intervenire su un'area dismessa, una vecchia industria di mattoni, bonificarla e adesso intervenire con questa costruzione di un polo logistico dove i principi di sostenibilità sono gli elementi cardini. Il polo logistico di Casegerola rappresenterà infatti uno dei primi poli a essere caratterizzati dalla certificazione LEED Platinum e quindi contraddistinto da tutti quegli aspetti che in materia ambientale ne faranno un esempio e un unicum. Un altro elemento che contraddistinguerà il nostro intervento è la realizzazione di queste cosiddette green wall, quindi queste pareti verdi che sulla facciata del fabbricato permetteranno, mediante una scelta studiata di determinate tipologie di pentomazioni, di permettere una riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dagli utilizzatori del parco.